ragazzi io torno subito mi raccomando non spaccate niente ragazzi benvenuti in questo nuovo video e a me l'arma raggi ragazzi noi siamo carichi ognuno sta imbracciato non sono carico ho paura che qualcuno fa male a qualcun altro ognuno ha il suo fucile come vedete due fucile da soft air due fucile da paintball adesso andremo a spaccare il primo oggetto non so che è soft air ma comunque mi sto piegando addosso primo tentativo soft air 3,2,1 easy win questo mi ha uccisi due con uno 3,2,1 flash flash ha affattito state caldi era il gong di fine turno ragazzi prossimo oggetto il primo oggetto è stata una passeggiata per me ci ha pensato surry adesso è il turno delle uova loro useranno i fucile da soft air e noi useremo il paintball io faccio modalità rambo il secondo oh non sto sparando perca di questo sono morti sono morti sono morti non siamo in gomorra ce n'è uno eccolo manca solo tudor ragazzi l'ombletto è pronta comunque ragazzi questo barile è abbastanza caldo secondo me bisogna assaggiare una frittatina ti pulisce? ragazzi io e Sasha li abbiamo presi tutte e sei noi abbiamo i proiettili più grandi sono sei tre a testa non fai l'ingordo io ancora non ho sparato vai tre cosa vai attenzione attenzione sono due no faccio ho fissuto e vabbè 300 preso preso uovo prendetelo eccolo vai la frittata non si riesce bene a fare insomma è buona è saporita c'è anche il colorante alimentare ma si dice che bisogna toglierlo il guscio è keratina fa bene più croccante su riaspetta calibriamo il vento è dritto va bene il round delle uova è stata una completa frittata adesso andiamo a condire un po' questo ma sempre così quando fa un video c'è un caro armato in giardino che fa casino adesso è il turno dei pomodori let's go vai sale vai a fare l'oggetto un secondo vai hoppick dai ragazzi non stiamo neanche riprendendo io si oh l'ho preso l'ho preso lo stai sparmellando aiutalo sasha sono i piccoli non li vedo sono troppo piccoli dai corre sono i piccoli sono più sparati l'ho preso l'ho preso guarda qua è proprio come scena del delitto guarda lo avete sfiorato guardate ah un colpo di striccio si è salvato gli autori fanno pratica con le arance noi con i pomodori i fucile a softair sono un po' troppo calmi con i pomodori eeeh guarda che sei pronto peppe? via ma fate un 360 eeeh non c'è più niente è tutto in sicura non c'è più niente anche con le verdure i fucili si sono dati da fare adesso un mio grande nemico lo yogurt intero vai vado aspettate ragazzi lo sto sparando un secondo aspetta non sto sparando super beppe beppe beppino ragazzi da yogurt intero a yogurt morto è un attimo beh ma qua dentro c'è uovo yogurt non hai fame? io con latte sai hai ragione a chiero scudo io ho sempre guardato Pablo Scobar con un po' di ammirazione oggi il yogurt pagherà Pablo Scobar non giuntava a paintball lo yogurt è bianco la cucchiainina è bianca fammi sognare a direttore senza liquido anche adesso si perchè diciamo che è stato preso dall'alto ah si no è stato anche buccato stretch shot team paintball è una spanna sopra sia a divertimento che a pericolo però come avete visto è lo yogurt essere intollerante ai mates adesso marattolino dello scudo di fortnite buono lo chiamavano Rambo explosion è rimasta solo la base eh ma il sughero non l'avete roto eh ho capito ma che anche voi il sughero non lo romperete ragazzi siamo pronti con il paintball se il software ce l'ha fatta paintball ce l'ha fatta abbiamo un obiettivo nei primi colpi cercare di fare un buco netto con cui il pallino può entrare dentro attenzione eh non so cosa è successo? eh vabbè deve essere una pistonia oh vabbè ok state calmi andiamo insieme a vedere questo baratto di vetro che fine ha fatto non c'è più attenzione in realtà c'è ancora non ha più la stessa forma eh da qualche parte qui eh c'è una puzza di morte dopo serve un po' d'acqua è l'acqua santa il mistero si infittisce adesso dobbiamo distruggere due lampadine semplici e un bicchiere a forma di lampadine che è bello duro Valentina ha detto che chi riesce a distruggere quello lì è il più forte di tutti lo senti lo senti lo senti lo senti lo senti come è rancato senti come è rapidement la pallina hoppi quella che è strana bravola non ti rompe di pallina è indistruttibile guarda la cannuccia La cannuccia è saltata, è plastica, è ineluttabile questo bicchiere Mettiamolo insieme a quello nuovo, vediamo che finiti facciamo fare Siamo pronti ragazzi visto che i nostri amici qua non ce l'hanno fatta Arriva l'artiglieria pesante Prima le donne Surry 3, 2, 1 Ragazzi c'è una dappalina a destra che è sovravvissuta Ragazzi inutile Nooo Non spara neanche più questo ormai Ineluttabile C'è un martello? Vabbè raga abbiamo scoperto il prossimo oggetto da usare in un altro video Il frullatore Prebatte, pesaci tu Andiamo su qualcosa di precisione infatti torniamo sul softane Abbiamo delle lattine di sprite là davanti Prendiamo di bucarle dritta al cuore 1, via Let's go Non è finita Non te la lascio Ho sparato io Ti è volata sulla luna Vai vai Non è complicato con questo Ehhh Ehhh Dottia Non è finita 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 È stata divastana Dopo lì Ho preso anche l'app che c'era prima No ma la sua è esplosa Bam Mh K47 from Russia Sasha from Russia Sasha from Russia X of Tear questa volta ci ha veramente stupito ragazzi È merito di chi spara Ma ci sono dei cavalli qui Ragazzi mi dispiace Aspetta raga un colpo per i... rispetto per i morti Oh l'ho presa Ah aspetta la mia l'ho bucata però Oh Eccola eccola Ma perché si è bucata così? Si è regato Questo è il famoso colpo di Naruto che è piccolino ma dietro poi esce tutto Guarda sta pisciando Ha vinto il solterre ragazzi Guarda è stata tutta ammaccata Ma no aspetta attento attento che piscia Siamo giunti alla conclusione di questo video Dobbiamo distruggere tutti insieme un'anguria Piccolina perché siamo fuori di stagione Però è un'anguria L'obiettivo ovviamente è quella di Cercare di infliggergli più danni possibili Cioè un boss di World of Warcraft Esatto è un tank enorme quel coso Allora ho sentito questo rumore Questo è il rumore della guerra Foco! Muori! Muori bastarda! A me sembra abbastanza No 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 che schifo Guarda un tacchino di ripieno un gioco di ringraziamento Guarda! Ma ce l'è ancora? Basta! Basta! Che dire follettine follettine? Andiamo all'outro! Cari amici questo video di oggi termina qua Io spero che vi sia piaciuto Noi ci siamo divertiti tantissimo Che ne dite se distruggessimo altri oggetti Utilizzando però attrezzature diverse Consigliatele qua sotto nei commenti Lasciate un mi piace Commentate Iscrivetevi Attivate la campanellina E noi ci vediamo nei prossimi giorni Nel prossimo video Questa è per tutto Buone! Ciao! Ciao!